Andiamo avanti, ordine del giorno, rettifiche e correzione tavola 5, la carta dei vincoli esistenti dello studio geologico del DRG vigente in merito rispetto ai ventilatori. Si tratta di una modifica... Nella carta dei vincoli esistenti dello studio geologico che è allegato al piano regolatore generale è indicata la fase di rispetto del depuratore, dei depuratori, senza indicare la misura a partenza di sangue ma praticamente l'eggetola è a 150 metri. In realtà con questo, con questi 150 metri andremo a coprire anche un pezzo dell'autorizzazione che è l'ultimo tratto ancora verificato. I proprietari del terreno così ci hanno segnalato questa situazione chiedendoci appunto di verificare se era da intendersi 150 metri, visto che non è scritto specifico sulla sua tavola, se era da intendersi con 150 metri, oppure se era possibile applicare il minimo che è definito dalla norma, anche a 100 metri. Ora, siccome l'autorizzazione è arrivata prima del depuratore, quando abbiamo fatto il depuratore avremmo dovuto aprire un procedimento per crisi, per un nuovo vinco e così via. Quindi quello non è stato fatto e ora rischeremo, oltre a banneggiare i deprimani che non possono fisicamente costruire sul tavolo, perché il comune gli aveva lato di verificabile nell'approvazione dell'autorizzazione, rischeremo anche un contenzioso come ora. Tutto sommato, l'abbiamo chiesto a un autogerologo, se ci fossero compre indicazioni alla rettifica della tavola, dal punto di vista igienico e sanitario, così c'è il comunicato che da questo punto di vista non ci sono problemi e quindi proponiamo al Consiglio Comunale di rettificare specificando che la base rispetto dai depuratori è di 100 metri, quindi specificare che è di 100 metri certificando l'errore grafico che abbiamo così sulla tavola dei vincoli che la si leggeva più ampi. Dicevo rettificare perché se facciamo come variante, come variante all'alto, in caldo dei vincoli mette una variante al piano lavoratore e ci vuole 6 mesi. anche arriviamo ancora al terzo risultato, l'anno 15 anno si versano anche un po' di bioneri, non c'è nessuna diversità da parte dell'amministrazione per cui proponiamo tutta questa rettifica della tavola. Sono una conservazione di un attimo. Questo lo pensiamo, è quello che è il suo intervento. La soluzione dell'ultima attenzione inizia, e tutelavamo la foto per un'intervento. Tra l'altro l'integrante di un'articchiazione inizia. E' un integrante di un'articchiazione. E' un integrante di un'articchiazione. C'è stato l'articchiazione di un integrante di un'articchiazione. Un integrante di un'articchiazione in fondo. Il depuratore non è... Ho risolto con l'ericchiazione. Se non ci sono ulteriori domande... Favorevoli? E' un'articchiazione? Ok. E' immediatamente esecutiva. Favorevoli? Ok.